e Lecce che ha subito per tutto il primo tempo l'iniziativa del Foggia che ha fatto la gara ha fatto gioco ha creato occasioni in Lecce che si è svegliato dopo il gol dell'uno a zero di Riverola Dumbia in area posizione regolare lo scambio con Moscardelli poi Dumbia ancora il sinistro che si stampa sulla traversa e poi il pallone che finisce in rete accorcia le distanze con Caturano il Lecce stava trattenendo il pallone Narciso sono andati due giocatori del Lecce a recuperarlo qui vediamo Papini che dà a Dumbia il sinistro sulla traversa pallone che torna in campo colpo di testa di Caturano ci prova a respingere Narciso senza riuscirci Foggia due Lecce uno il gol di Salvatore Caturano Grazie a tutti.